Ciao Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben e questo è Paradox of Hope. Come vedi al momento sono all'interno di una galleria in pieno stile Metro 2033 e quello che sto per mostrarti in questo video è la modalità storia, che al momento è solo un'introduzione alla storia, perché lo sviluppatore Monkey with a Bomb, formato da una sola persona che ha creato tutto questo, aggiungerà altri capitoli della storia, nelle prossime settimane, mesi, anni, non è dato saperlo perché si tratta di un Early Access e quindi non c'è la certezza che questo gioco verrà completato. Comunque per adesso ti mostro la modalità storia e in un altro video ti mostro la modalità ride, che al momento è il cuore di questo gioco, per cui andiamo. E qui è dove tutto ha inizio. Caro diario, oggi mi avventurerò ancora una volta fuori dalle gallerie, in cerca di risorse e sopravvissuti, provando a sopravvivere un giorno in più. Ogni volta che scrivo qualcosa su questo diario potrebbe essere l'ultimo, quindi per chiunque dovesse trovare queste mie parole, leggete con attenzione, perché è dove conservo tutte le informazioni di cui potete avere bisogno per rimanere in vita in questo inferno. Ed eccoci! Sì, per adesso il gioco ha soltanto sottotitoli in inglese, ma il parlato è soltanto in russo. E comunque non mi dispiace così tanto, perché stiamo parlando di un gioco ambientato in Russia, e quindi aumenta in un certo senso l'immersività. Comunque, parlando con lo sviluppatore, ha detto che la sua intenzione è quella di aggiungere la localizzazione in inglese e in altre lingue, tra le quali anche l'italiano, e probabilmente sarò io a occuparmi della traduzione in italiano. Graficamente questo gioco è abbastanza ben fatto, anche se al momento la qualità delle texture non è altissima. Le texture non sono così definite, per esempio qui stiamo vedendo una texture piatta, ma come ho già detto stiamo parlando di un gioco sviluppato da una sola persona. Quindi, ecco, ogni tanto ci sono un po' di problemi con le interazioni, c'è un po' di clipping comunque. Dicevo, l'aspetto principale di questo gioco è l'ambientazione, l'immersione, e quando mi trovo all'interno di un gioco come questo, preferisco sacrificare un po' di grafica, in cambio di una bella ambientazione. Un gioco che sia veramente immersivo, e magari anche con una bella storia, e speriamo che questo gioco abbia una bella storia. L'introduzione sembra buona già, e se il resto della storia è almeno allo stesso livello, possiamo stare sicuri che avremo un gran bel gioco. Ok, le meccaniche delle armi non sono... così... wow. Dicevo, non sono così basilari come magari il resto degli altri giochi, dove, semplicemente, che ne so, devi trovare il caricatore, inserirlo nell'arma, ricaricare, quindi meccaniche base delle armi. Perché anche in questo gioco, per esempio, c'è la meccanica del rifornimento manuale dei caricatori. Nel senso, puoi prendere il caricatore, e rifornirlo di colpi, inserendoli uno per uno. Questa funzione, però, in Paradox of Hope, non è dettagliata come quella di Into the Radius. Per esempio, non puoi estrarre i colpi dal caricatore, non puoi pulire l'arma, e tante altre cose che sono in Into the Radius. mentre qui puoi soltanto fare i caricatori, e aggiungere mirini, puntatori, e altre cose sulle armi. Però, comunque, queste meccaniche non sono così importanti in Paradox, perché stiamo parlando di due giochi completamente diversi. e Paradox of Hope è perfetto nel modo in cui viene offerto, cioè senza nessuna complicazione sulle armi. Eh beh, ragazzi, l'ambientazione è davvero tanta roba, eh. Io adoro, per esempio, la serie dei giochi di Metro. Ho giocato tutti i capitoli della saga di Metro, e veramente ho sempre immaginato un gioco VR ambientato nell'universo Metro. E Paradox of Hope è quello che più si avvicina al genere che offre Metro. Ho giocato questo gioco già prima della data di uscita, e il gioco è già stato migliorato rispetto a prima, è stato un po' ottimizzato. Perché rispetto a prima, adesso sembra essere un po' più fluido. Ovviamente più godibile. E soprattutto, l'unica cosa che era possibile giocare prima del rilascio, era un tutorial, e non c'era neanche un singolo ride. In pratica c'era soltanto la base principale, e la possibilità di andare in giro per il rifugio facendo nulla. Però già quello mi era bastato per capire che questo gioco aveva molto potenziale. E adesso, giocando la versione ufficiale, confermo che questo gioco potrebbe essere uno dei migliori giochi VR, su questo genere. Quindi spero veramente che lo sviluppatore continui a lavorare su questo gioco, perché ci serve. Ogni giocatore che si rispetti ha bisogno di un gioco del genere, ma soprattutto quelli che hanno amato il genere metro. Ok, adesso devo trovare una chiave. Eccola qui, l'ho trovata. La metto nello zone. Questa stanza è piena di resti. La cosa che finora trovo molto fastidiosa, è il fatto che per correre, devi tenere premuto il thumbstick. Quindi è un po' scomodo premere e andare avanti. Eccolo lì, c'è un lucchetto. Oh! Figlio di troia! Ma brutto pezzo di merda. Buu! Non me l'aspettavo, perché la prima volta che l'ho giocato, ho fatto qualcosa di diverso. Cioè, direttamente sono venuto davanti la porta, e non so come la porta sia aperta. E il bastardo era già dentro. Vabbè, comunque... Uff, attiviamo questo generatore, apriamo l'inventario, che sarebbe il mio zaino. Non è una mossa molto intelligente avere carburante e accendino in mano. Perfetto. Andiamo. E dai. Girati! E girati! Dai che mattina dobbiamo andare a scuola. Ecco, anche qui. Guarda i dettagli delle texture di questo mostro. E anche il modello. Diciamo che è tutto un po' squadrato. Guarda qui, per esempio. Vedi? C'è una linea dritta qui, un'altra qui. Non è arrotondato. E spero che sia le texture, che magari anche i modelli, vengano migliorati. E anche le animazioni. Al momento sono un po' basilari. Non mi piacciono le animazioni dei mostri. Ok, allora. Devo prendere la scheda magnale. Eccola qui. Oh, finalmente ho trovato una torcia. Così non... Non mi serve. Utilizzare l'accendino ancora. Comunque ho trovato questa valigetta, che era l'obiettivo da seguire finora. E adesso devo portarla alla persona che mi aveva incaricato di trovarla. Che è la persona con la quale sto parlando adesso. Quindi questa al momento era la mia missione. Era portare... Ecco, vedi? C'è un problema con le tavole. Eh, problema risolto. Ah, però aspetta, perché... Da qualche parte mi pare che c'era una chiave da raccogliere per aprire una cassaforte che dovrei trovare più avanti, se non sbaglio. Ma non mi ricordo dove. Adesso la cerco, ma se non la trovo niente, vado avanti. Forse è qui, vediamo negli armadietti. Vabbè, niente. Non l'ho trovata. Niente chiave. Andiamo giù, allora. Ok, niente. Andiamo giù. Allora, io ho una fondina per la pistola sul lato destro, mentre un'altra per la maschera sul lato sinistro. Mentre l'inventario, che sarebbe lo zaino che ho sulle spalle, e sulla spalla destra, se non sbaglio, dovrei avere un'altra fondina per le armi a lungo raggio o per i fucili d'assalto. Niente chiave, nemmeno qui. Va bene, scendiamo. Ecco qui, adesso mi serve la maschera. Ok, questa è l'energia. Questa azzurra probabilmente è la stamina. E il tempo che vedi qui è il tempo restante del filtro. Quando il tempo scade, hai bisogno di cambiare filtro. Puoi trovare filtri sui cadaveri, li puoi raccogliere e conservare nello zaino. Adesso, anche se ho la maschera, non posso attraversare questo fumo, perché probabilmente si tratta di vapore bollente. Lì dietro c'è un bastardone. Ah, vediamo. Oh, finalmente. La chiave l'ho trovata. Ah, perfetto. La posso conservare direttamente nello zaino, semplicemente riponendola dietro la mia spalla. Ok, giriamo questa valvola e prepariamoci a combattere. Lo shooting mi piace. È preciso ed è anche abbastanza facile prendere la mira, perché collimando vedi i due puntini verdi e il puntino rosso al centro. E quando si allineano significa che sta mirando correttamente. Quindi, come dicevo prima, in questo gioco puoi aggiungere mirini, torce, questo per esempio che sto aggiungendo è un puntatore laser. C'è uno spazzolino, ma da qualche altra parte, non qui. Ma anche se utilizzi lo spazzolino sull'arma, praticamente è inutile. Non c'è la meccanica della pulizia dell'arma. Perfetto. Apriamo la cassaforte. E eccolo qui. Red dot. E un altro caricatore. Perfetto. Possiamo andare. Concludiamo la storia. Peccato che sia così corto per ora. Peccato. Ogni tanto ti capite di trovare queste lettere che aumentano i contenuti relativi alla storia, aggiungono altro, quindi è molto importante leggerli. Comunque, Nick, i sottotitoli non sono abbastanza. Io capisco che sei russo. Io adoro il russo. Io non capisco nessuna parola del russo fatta eccezione per Bliat. Quindi è molto importante mettere almeno le voci in inglese. E come ho già detto, ti aiuterò a tradurre questo gioco in italiano per quanto riguarda testi e sottotitoli. Ma ripeto, è molto importante che aggiungi... E dai, andiamo. Dicevo, almeno le voci in inglese. Bene. Questa praticamente è la parte finale di questa prima parte della storia. Quando senti questo rumore nell'arma significa che devi ricaricare. Dai, resisti, bastardo. Non morire. Ah, a proposito, vediamo se ho... Sì, ce l'ho la fondina sulla spalla destra. Si posso riporre direttamente. Sì, vabbè, ho capito, ma perché non spari? Spara! Finite le munizioni. Dai, dai, dai. C'è qualche problemino nel ricaricare l'arma lunga. Altro caricatore! Ma non finiscono mai! Spara, idiota! Non parlare! Dinamite! Bella mossa, bella mossa! Questo modello è fatto bene, però. Dai. Ok. E qui è la parte dove devo dare la valigetta a questo tizio. Tu guida! Non ti distrarre! Oh, pezzo di merda. Beccati questa mossa di Krav Maga! Ti spiego come si fa. Prendo l'arma, la ridireziono verso l'esterno e ti tiro un cazzotto in gole. Bene, 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 bene. Ragazzi, questa è la fine della prima parte della storia per adesso perché, come ho detto, si tratta soltanto di un'introduzione e, successivamente, lo sviluppatore aggiungerà altri capitoli e spero molto presto. Va bene, nel prossimo video ti mostrerò come funzionano i ride quindi continua a seguire per vedere altri video su Paradox of Hope. Come sempre, grazie per la visione completa, like, iscrizione e campanella. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi!